guarda scusami Ares ma non ho saputo resistere la tentazione eh spera che ti aprano lì no tu aspetti che arrivo e non gli spari eh è una bomba è una bomba a rologeria murato dentro murato vivo vivo e lascia che passa non è passato uno eh dai che te lo fai no no putti c4 blackboard lì in fondo vabbè uno l'hai fatto e che vabbè